Quando siamo arrivati ci hanno bloccato al bivio Mirri tra Farindola per andare a Rigopiano e ci hanno bloccato la polizia locale, ci hanno detto che dovevamo aspettare che passasse lo spazzaneve e quindi che ripulissero le strade. Abbiamo aspettato all'incerca un'ora, un'ora e mezzo, sono arrivati gli spazzaneve e poi siamo saliti. Abbiamo trascorso la notte e il giorno dopo comunque si erano tutti quanti agitati già prima per la neve ma poi quando è successo che ci sono state delle scosse di terremoto e ci siamo tutti molto molto più spaventati che ovviamente si sentiva tantissimo e ce ne volevamo tornare tutti quanti a casa, anche chi magari aveva prenotato per vari giorni. Quindi stavamo tutti quanti nella holla ad aspettare lo spazzaneve che poi dovevamo accodarci a lui e riscendere. Sì loro ci hanno detto di stare tranquilli, di stare tutti quanti nella sala del tè dove stava il camino e che quando passava lo spazzaneve ce ne potevamo tornare a casa. Solo dopo un po' è arrivata una comunicazione che molto probabilmente non si sapeva se passava, l'ora che passava, quindi di organizzarci per dormire in quella stanza perché ovviamente tornare nelle camere era pericoloso per il terremoto. Però noi non abbiamo mai pensato che fosse una valanga, noi fino a quando non abbiamo parlato con i soccorritori pensavamo che fosse un terremoto molto forte. Allora praticamente noi eravamo seduti vicini sopra un divanetto di vimini e stavamo prendendo il tè e a un certo punto in tre secondi ci siamo lì trovati sotto, non abbiamo capito niente, veramente niente. E da lì per sopravvivere è vero che riuscivate a prendere della neve, del ghiaccio? Intorno e quindi ci nutrivamo di quello, per fortuna che ce l'avevamo. C'era anche Lorenzo Tognello, lo sentivate? Stefano, no, no. Non l'avete mai sentito voi? Quindi solo voi tre eravate in quella sorta di cazzola che si è creata? Sì, ci siamo aiutati tanto a vicenda perché se no non ce la facevamo. Poi lui ha anche, diciamo, aiutato pure non solo me ma anche l'altra ragazza, gli dava qualche parola di conforto. Di sostegno. Sì, sì, sì. E ovviamente ogni volta che lo prendevo per me la metà era per lei. All'inizio con la luce del cellulare sì, poi non ci vediamo più, era tutto buio. All'inizio tanto freddo non c'era perché c'era vicino il cammino, diciamo. Poi nel trascorrere delle ore sì. Sì, io ho sentito freddo. Lui tremava. Allora, la frase che più mi sono ricordata è stata noi siamo qui e non ce ne andremo finché voi siete fuori. Senza di voi. Senza di voi noi non ce ne andiamo. Allora, quello che posso dire io è che la mia forza è stata lui. Cioè nel senso che lui ogni volta che io cercavo di mollare, lui mi tirava su. E quindi... Cosa ti diceva, Vincenzo, per tirarti su di mollare? Di stare tranquilla. Poi mi abbracciava, cioè nel senso che già la sua presenza per me era importante perché io so lui che carattere ha, lui è molto forte. Volete mandare un messaggio ai vostri concittadini? Allora io ringrazio tutta la mia città, tutti i miei amici, la tua famiglia, voi tutti che veramente per me siete come una seconda famiglia, voi lo sapete. ci hanno confortato tanto, questo paese. Grazie. 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 Grazie.